sull'isola d'ischia da sabato pomeriggio 17 febbraio continuano senza sosta le ricerche della signora antonella di massa che ormai da giorni non dà più notizie di sé le ricerche che vedono impegnato un massiccio spiegamento di vigili del fuoco forze dell'ordine soccorso alpino e uomini delle varie associazioni di volontariato presenti sull'isola verde con al seguito cani molecolari droni ed elicotteri sin da subito si sono concentrate a succhivo frazione del comune di serrara fontana dove è stata ripresa per l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza collocate all'esterno della sede della proloco locale 51 anni alta un metro e 70 occhi e capelli castani al momento della scomparsa indossava un piummino di colore blu scuro pantalone di colore nero e scarpe scure a succhivo la signora antonella sarebbe stata notata anche da alcuni residenti